Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie dedicata al colonialismo dell'Italia Unita. Un colonialismo che abbiamo iniziato a raccontare attraverso qualche vittoria, purtroppo tante sconfitte, come ad esempio l'incapacità di ottenere la Tunisia o la sconfitta di Adua nel tentativo di conquista dell'Etiopia, e che oggi torna in Nordafrica. Lasciamo l'Africa orientale, non perché gli italiani non abbiano continuato a mantenerci delle colonie, ma perché ci torneremo tra qualche puntata per tornare a parlarne, e ci spostiamo nell'altra grande colonia italiana, cioè la Libia, o meglio, come era chiamata all'epoca, due zone diverse, la Tripolitania e la Cirenaica. Ora, la conquista della Libia è un argomento che spesso viene sempre affrontato in maniera molto rapida, una guerra, la guerra italo-turca, che vide proprio tra il 1911 e il 1912 Italia e Turchia affrontarsi con la vittoria italiana e quindi la conquista della Libia. Le cose in realtà però sono molto più complesse, perché l'Italia non ci mise solo un anno a conquistare la Libia, ma ci mise veramente tantissimi anni, tanto che fino agli anni 30 sostanzialmente il controllo italiano non si estese a tutto il territorio libico. La conquista della Libia quindi è una storia molto lunga e complessa, che non racconteremo in una sola puntata, ma lo faremo in una piccola serie nella serie, per così dire che inizia oggi. Oggi però partiremo dall'inizio, cercheremo di capire perché l'Italia voleva la Libia, quali erano i suoi obiettivi e come sfruttò la guerra per cercare di ottenerla. Ma come spesso capita nelle avventure coloniali italiane, non tutto andò così com'era previsto. Quindi, se non volete perdervi le prossime puntate, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. Come vi dissi nella prima puntata, nelle prime puntate di questa serie, in effetti, se ci pensate, per l'Italia lo sbocco coloniale più semplice sarebbe stato Nord Africa. Tra tutte le potenze europee era quella più vicina geograficamente, era anche se vogliamo quella che, almeno fino alla metà del XIX secolo, aveva avuto i maggiori contatti con i territori nordafricani. Purtroppo per l'Italia, però, il Nord Africa non interessava solo a lei, ma come abbiamo visto nella prima puntata dedicata allo schiaffo di Tunisi, interessava anche ad altre potenze europee, a cominciare dalla Francia e dall'Inghilterra. L'Italia si era comunque mossa all'epoca, convinta che la sua vicinanza, la sua forza economica e, in generale, il benestare dell'Inghilterra potessero in qualche modo permetterle di espandersi in quella direzione. Ma, appunto, quello che era avvenuto a Tunisi aveva dimostrato che questo non era vero e che era necessario un attento lavoro di mediazione diplomatica per poter ottenere dei risultati. Per questo, dopo Tunisi, l'Italia aveva iniziato a rivolgersi verso la Libia. Perché questo? Beh, perché in effetti rimaneva uno dei pochi territori a non essere ancora stato catturato da una potenza europea. L'Algeria e la Tunisia erano già nelle mani francesi, l'Egitto lo sarà breve, formalmente come protettorato, ma a tutti gli effetti occupato, anche grazie alla necessità di mantenere il canale di Suez. Gli unici territori che rimanevano liberi erano quindi il Marocco, che però era molto lontano anche geograficamente, e, appunto, la Libia. Per evitare il ripetersi di quello che era successo a Tunisi, l'Italia decise di iniziare a muoversi con molta cautela, e lo fece innanzitutto dal punto di vista diplomatico, cercando di intessere delle relazioni fra le varie potenze europee, accettando dei piccoli scambi, in cambio della garanzia da parte di queste potenze, che avrebbero loro invece accettato un'eventuale occupazione italiana della Libia. Il primo stato con cui ci si trovò a doversi accordare era ovviamente la Francia, e con questa l'accordo fu abbastanza facile. Nel tutto sotto banco, ovviamente, in maniera non ufficiale, l'Italia riconobbe i diritti francesi sul Marocco, quindi la possibilità della Francia di annettersi in Marocco, in cambio del riconoscimento francese dei diritti italiani sulla Libia. Un accordo che, ripeto, fu fatto assolutamente sotto banco, ma che per l'Italia ovviamente poteva evitare un nuovo ripetersi di quello che era successo a Tunisi. La Francia però ovviamente non era l'unica interessata. Tra le interessate c'era, ad esempio, l'Inghilterra, e in effetti, grazie ai buoni rapporti che si erano creati in Africa orientale, anche l'Inghilterra, pur senza dare un esplicito benestare, inizialmente non si disse del tutto contraria alla cosa. L'altro stato che però era da convincere era la Germania. Ora, inizialmente alla fine del XIX secolo, la Germania, fra tutti gli stati europei, era quella che vedeva meglio la possibile occupazione della Libia da parte italiana. La Germania aveva creato un'alleanza, la triplice, con l'Austria-Ungheria, poi con l'Italia, un'alleanza che aveva ovviamente bisogno di colpire gli interessi degli altri stati dovunque questo potesse avvenire. E laddove non poteva arrivarci la Germania, ci poteva arrivare l'Italia, come in Libia. All'inizio del XX secolo, però, gli interessi tedeschi avevano iniziato a cambiare. Questo perché, come abbiamo raccontato nella serie sui Balcani, l'impero ottomano, cioè il grande malato d'Europa, come veniva chiamato, ma comunque ancora uno stato molto importante, anche solo per la sua posizione geografica, aveva iniziato ad abbandonare l'alleanza con l'Inghilterra e la Francia, che lo aveva caratterizzato negli ultimi anni, e a guardare più verso Berlino come un proprio partner politico. Cosa centrava l'impero ottomano con la Libia? Beh, perché, come tutti voi sapete, immagino, la Libia, a differenza di quanto avveniva al di sotto del Sahara, dove sì, di regni locali ne esistevano, ma agli europei non gliene interessava particolarmente, facevano assolutamente quello che volevano, se non venivano sconfitti come ad Adua, la Libia non era un territorio considerato libero, ma ufficialmente era un territorio che faceva parte dell'impero ottomano. E quindi, se l'Italia avesse voluto conquistare la Libia, non l'avrebbe potuto fare semplicemente sbarcando e annettendosela, ma avrebbe dovuto fare una vera e propria guerra, appunto, contro gli ottomani. E come vi potete immaginare, quando la Germania si trovò ad avere i primi abbocchi, come si dice, con gli ottomani, a pensare che in qualche modo gli ottomani potessero diventare suoi alleati con tutto quello che questo poteva comportare, l'idea che due suoi possibili alleati, Italia e ottomani, si scontrassero iniziò a non piacere qui così tanto. E così la Germania iniziò a mettere i bastoni fra le ruote all'Italia e in qualche modo a cercare di fermare tutto questo processo. Ora, l'Italia aveva iniziato a pensare alla Libia, come vi dicevo subito dopo Tunisi, e questo è addirittura garantito dal fatto che i primi piani sviluppati per una possibile invasione sono datati addirittura a 1884-1885 e non vennero messi in atto per due fattori principali. Il primo per la mancanza di occasione politica, necessitava, come vi dicevo, di tutto questo lavoro. Il secondo perché dopo la sconfitta di Adua, la maggior parte dei partiti italiani avevano iniziato a temere fortemente il lanciarsi in una nuova operazione coloniale. In effetti dopo Adua, l'Italia dal punto di vista coloniale si era nuovamente chiusa in se stessa, non aveva intrapreso grosse campagne all'estero, se andiamo ad escludere la partecipazione alla guerra dei boxer, a cui abbiamo dedicato una pregressa pidola, e che portò peraltro la nascita di una colonia in Oriente. Se volete, ne abbiamo già parlato di una vecchia pidola, anche quella ve l'ho messa nella playlist dell'impero coloniale italiano, se volete andarla a recuperare. E quindi, insomma, l'Italia si era un po' concentrata sull'interno e ne aveva ovviamente ben donde, perché l'Italia del 1880 era un'Italia molto povera dal punto di vista economico, che però nei 30 anni successivi, grazie anche e soprattutto all'opera di uno dei suoi presidenti del Consiglio, cioè Giovanni Giolitti, aveva visto la sua economia progressivamente ripartire, non riportarsi pienamente al livello delle altre potenze europee, ma in qualche modo rendendola possibilmente pari. Il massimo di questa crescita economica si era assistito proprio negli anni che avevano preceduto la guerra con la Turchia. Una crescita economica che aveva dato, che era stata una crescita dal punto di vista industriale, con la costruzione di molte industrie, dallo sviluppo anche infrastrutturale dell'Italia, con la costruzione di strade, ponti, acquedotti, uno sviluppo dal punto di vista navale e uno sviluppo anche appunto dal punto di vista economico, che aveva portato, pensate, la lira ad essere considerata una moneta talmente forte da essere talvolta preferita negli scambi internazionali addirittura alla sterlina, cioè alla moneta di quello che in quel momento era il paese più potente al mondo. Si dice che addirittura per tre anni la lira fosse preferita addirittura all'oro, valesse addirittura più dell'oro. Forse ne avete sentito parlare all'espressione e fece agio sull'oro. Ad ogni modo, questa crescita economica ovviamente fu utilizzata dal governo Giolitti anche per proseguire i piani sulla Libia. Come? Beh, se si voleva in qualche modo giustificare la propria invasione della Libia era necessario trovare dei contatti economici, un po' come era stato con la Tunisia per intenderci. E dato che non vi era un forte movimento di emigrazione nella zona, era necessario che questi contatti avvenissero proprio dal punto di vista industriale e commerciale. Per questo l'Italia, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, aveva iniziato ad aprire tutta una serie di attività sulle coste libiche, a intraprendere forti relazioni commerciali, tanto da diventare il primo stato per rapporti commerciali con la Libia, scalzando ovviamente l'Inghilterra e la Francia. A questo punto, l'Italia aveva sulla carta la motivazione. Aveva i piani, piani che, ripeto, vennero aggiornati più volte nel tempo, anche se la maggior parte di loro faceva notare come la conquista della Libia non sarebbe stata questa enorme meraviglia economica, ma questo ovviamente non importava, ora però serviva l'occasione. E l'occasione arrivò nel 1911. Perché in 1911? Cos'era successo? Beh, la guerra tra l'Italia e la Turchia per la Libia, secondo alcuni, non nasce nel Mediterraneo orientale, ma nel Mediterraneo occidentale, addirittura sull'Atlantico. nasce nella crisi di Agadir in Marocco. Ora, come vi ho raccontato prima, la Francia aveva sotto banco trattato con l'Italia la possibilità di estendere il suo dominio sul Marocco in cambio della concessione all'Italia della Libia. In realtà questa cosa però non piaceva a tutte le potenze, non piaceva in particolare alla Germania, che sul Marocco aveva a sua volta le proprie mire, e che nel 1911 decise di mangiare una propria cannoniera, la Panther, di fronte alle coste di Agadir in Marocco, proprio per cercare di imporre questo suo volere. La situazione divenne ben presto una crisi. Una crisi che letteralmente sconvolse l'Europa, rischiò di far precipitare l'Europa in una grande guerra, avrebbe potuto forse anticipare di tre anni la guerra mondiale, e ci mise letteralmente mesi ad essere risolta. Quando scoppiò questa crisi, l'Italia capì che poteva essere il momento giusto. Da una parte infatti c'era la paura che se la crisi fosse stata vinta dalla Francia, questa avrebbe poi potuto rimangiarsi la sua parola sulla Libia, d'altronde non c'era niente di ufficiale. Dall'altra parte ci si rendeva conto che con tutte le potenze concentrate in Marocco, probabilmente nessuna si sarebbe occupata dell'idea italiana sulla Libia. E quindi, perché non approfittarne? Beh, i piani italiani in tal senso in effetti erano molto chiari. Dicevano che, dal loro punto di vista, l'occupazione della Libia sarebbe stata molto facile, la flotta, superiore a quella ottomana, avrebbe dovuto bloccare completamente il mare, impedendo agli ottomani di portare ai rifornimenti l'esercito, avrebbe dovuto sbarcare sulle coste, occupare facilmente le città principali, si pensava che i turchi avrebbero avuto pochissime truppe, e poi accordarsi con le popolazioni arabe, berbere e locali per una spartizione del potere. Si pensava che questi avrebbero tranquillamente accettato il cambio di potere. A questo punto, messe le potenze di fronte al fatto compiuto, la Libia sarebbe stata semplicemente annessa. A questo punto, quindi, gli italiani decisero di lanciare un ultimatum. L'ultimatum fu lanciato il 28 settembre 1911. Il casus belli, se così vogliamo dire, fu di natura prettamente economica. Negli ultimi anni, infatti, in Turchia, dal punto di vista politico, le cose erano cambiate. E un movimento di stampo fortemente nazionalista, i cosiddetti giovani turchi, che abbiamo parlato nella serie sui Balcani, vi rimando lì, aveva preso il potere, ovviamente mantenendo il sultano e il califo al suo posto, e aveva iniziato una politica di forte accentramento del potere proprio nelle mani turche, cercando di escludere non solo le altre minoranze dell'impero dalla gestione politica dello stesso, ma anche di escludere le potenze straniere dalla gestione economica della Turchia. E questo ovviamente aveva avuto dei riflessi anche in Libia, dove gli italiani avevano iniziato ad avere grossi problemi a fare affari, a continuare i loro commerci, e in particolare una banca, il Banco Romano, che aveva grossi interessi in Libia, si era trovata improvvisamente esposta e con grossi problemi economici e con il rischio di perdere tutti i propri investimenti. In realtà, però, tutto questo era semplicemente una scusa. L'ultimatum, che fu fortemente voluto dal ministro degli esteri, il conte di San Giuliano, era, ripeto, una semplice scusa. Richiedeva l'accessione della Libia, la riapertura dei rapporti economici e dava alla sublime porta a Istanbul appena un giorno per rispondere, altrimenti sarebbe stata guerra. Istanbul in realtà rispose, leggermente in ritardo, ma rispose accettando il compromesso economico e chiedendo di trattare sulla questione della Libia, ma l'Italia non interessava, perché il timore italiano è che più tempo si fosse perso, più altre potenze si sarebbero potute inserire e l'Italia avrebbe rischiato di non ottenere quello che voleva. E così, nonostante la risposta della sublime porta, un giorno dopo il lancio dell'ultimatum, il 29 settembre 1911, l'Italia entrava ufficialmente in guerra contro l'impero ottomano. Abbiamo fino adesso parlato dell'Italia in toto, come una nazione che si muove contro gli ottomani, ma le cose non stavano esattamente così, perché anche all'interno dei vari partiti italiani c'erano anime diverse. All'interno del partito liberale, il partito di Giolitti, in effetti non tutti erano d'accordo col presidente del Consiglio, con il suo ministro degli esteri, in realtà lo stesso Giolitti in passato si era spesso contro possibili politiche coloniali, ma vuoi per il miglioramento economico, vuoi per la necessità di ottenere delle vittorie da spendere anche in politica interna, la cosa alla fine era stata ampiamente accettata e ben voluta. Altri partiti non erano così convinti, ad esempio i partiti di ispirazione cattolica che stavano nascendo, che pur essendo, e lo saranno lì a breve ufficialmente, alleati, comunque vicini, alle posizioni liberali, avevano espresso qualche dubbio su questa guerra, dubbi che erano stati alimentati dallo stesso Papa, il quale, pur non esprimendosi ufficialmente contro la guerra, ma per motivi prettamente politici, cioè voleva evitare uno scontro col governo in una situazione già abbastanza complicata, ebbene, pur non esprimendosi apertamente contro la guerra, fece sì che in ogni modo venisse evitata qualunque retorica di una possibile guerra religiosa, cioè voleva evitare che gli italiani vendessero, l'Italia vendesse l'occupazione della Libia come una conquista cristiana di una terra musulmana. Ovviamente il Papa non voleva essere messo in mezzo. Altri partiti, a cominciare dai socialisti, invece si spaccarono in maniera molto più netta. Una parte di questi partiti, principalmente partiti di sinistra, vicino ai proletari, vicino ai lavoratori, infatti vedevano nell'occupazione della Libia un possibile sbocco per le masse di immigrati. Per loro l'occupazione di territori coloniali voleva dire offrire al popolo una possibilità di emigrare all'interno dei confini italiani, quindi più possibilità di lavoro, più possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita. Un esempio di questa retorica, ad esempio, è il famoso discorso di Pascoli della grande proletaria si è mossa, Pascoli poeta, che nel tempo aveva più volte mutato le sue idee dal punto di vista politico e che in realtà, l'anno prima di morire, si espresse, quando la guerra era iniziata da neanche un mese, con la famosa frase che poi venne riportata più volte appunto la grande proletaria si è mossa, raccontando questa idea di una massa proletaria italiana che si muoveva per cercare un proprio sbocco, per poter cercare una maggiore felicità e una maggiore ricchezza. Non tutti all'interno del Partito Socialista però la pensavano allo stesso modo. I più estremisti, infatti, erano apertamente contrari a qualunque guerra, guerra che riconoscevano essere di tipo imperialista, rivolta verso una popolazione che non ne poteva nulla, che nulla aveva fatto all'Italia. Tra questi esponenti c'erano personalità che diventeranno molto importanti di via qualche anno. C'era, ad esempio, Pietro Nenni, tanto per dirne una, ma c'era soprattutto un giovane Benito Mussolini, che nel 1911 venne addirittura arrestato per aver protestato contro la guerra, guerra che lui definiva imperialista, guerra che l'Italia non avrebbe dovuto fare, e questo forse fa un po' ridere se pensiamo che le prossime guerre coloniali che vedremo sarà proprio lui a organizzarle. Ma questo rimane un pensiero del tutto mio. Il popolo, invece? Beh, il popolo, per cercare di fare pressioni sul popolo e fargli accettare la guerra, si puntò molto di più sull'aspetto nazionalista, sull'idea di questa Italia che doveva dimostrare la propria forza. Simbolo da questo punto di vista, e fu una gigantesca arma retorica per il regime, fu una canzone che addirittura uscì, iniziò ad essere cantata, prima che la guerra scoppiasse, segno che la cosa era stata assolutamente preparata, cioè la canzone A Tripoli, che è più facilmente conosciuta come Tripoli, bel suol d'amore, e che era cantata da una cantante già della Garisenda, che era famosa, e anche questo scandalo ovviamente rendeva la canzone ancora più nota, perché la cantava coperta semplicemente da una bandiera italiana, proprio per indicare come l'Italia dovesse spingersi a conquistare anche Tripoli. E sarà un po' la colonna sonora di tutta questa guerra. Ad ogni modo, come vi dicevo, quando venne lanciato l'ultimatum, il 28 di settembre 1911, l'ultimatum che scadè il 29 di settembre, quindi il giorno successivo, l'Italia, dal punto di vista militare, in realtà la sua operazione l'aveva già preparata. In realtà, navi italiane, già da qualche giorno, pattugliavano le navi intorno alla Libia. Questo perché ormai era chiaro a tutti che la guerra sarebbe scoppiata, e si voleva evitare in ogni modo che la Turchia potesse rifornire la Libia prima che truppe italiane potessero sbarcarvi. In effetti, sapevamo, grazie ai servizi segreti, che alcune navi, alcuni piroscafi veloci, erano partiti proprio dall'impero ottomano diretti verso la Libia. In particolare, si cercò di fermare uno di questi, cioè il Derna, che si sapeva portava 1500 fucili moderni. Su questo c'è una storia molto divertente, perché prima che scoppiasse la guerra, un incrociatore, il Varese, un incrociatore italiano, era stato mandato di fronte a Tripoli proprio per intercettare il Derna. Ma quando arrivò, si trovò a pattugliare quelle aree, riuscì solo a scorgere un singolo piroscafo. Quando gli si avvicinarono, scoprirono che il piroscafo aveva sì dei marinai turchi, ma aveva anche degli uomini che sembravano parlassero tedeschi, tedesco, ma soprattutto il nome era diverso. C'era scritto Amitaz. E quindi il capitano, che aveva ricevuto ordini assolutamente precisi, anche per evitare di complicare ancora di più la crisi, ripeto, non si era ancora ufficialmente in guerra, fece passare la nave. Il giorno successivo, il rappresentante italiano a Tripoli scrisse a Roma che il Derna era arrivato, come era stato possibile che fosse passato davanti alle navi italiane e che era pronto a scaricare le sue navi, i suoi rifornimenti, i suoi fucili. Il Varese venne quindi mandato a nottetempo nel porto di Tripoli per cercare di capire dove fosse, se si poteva in qualche modo affondarlo. Ancora una volta entrarono nel porto con una barchetta, ma l'unico piroscafo che trovarono fu sempre quello. Li si avvicinarono, confermarono che non era il Derna e tornarono indietro. In realtà, i turchi avevano semplicemente cambiato il nome. Quella nave era stata fatta in Germania, si chiamava Hamburg, avevano cancellato il nome modificato, avevano cercato di ricopiare il nome tedesco, lo avevano storpiato appunto in Amitaz e gli italiani in questo modo si fecero fregare e i turchi riuscirono a sbarcare le loro armi. Il 29 di settembre però questi mezzucci non furono più necessari, perché la guerra dichiarata scoppiò e scoppiò in mare e scoppiò in terra. Dal punto di vista marittimo, le cose si fecero subito positive per l'Italia. Il primo scontro avvenne addirittura un'ora dopo la dichiarazione di guerra, quando cinque cacciatorpedinieri italiani ne scoprirono due turchi di fronte alle coste dell'Epiro e dell'Albania, che all'epoca facevano parte del territorio ottomano. Le due cacciatorpedinieri, dopo aver cercato di aprire fuoco su quelli italiani, si erano poi divisi. Uno era riuscito a fuggire, un altro era stato affondato. Ma poi le navi italiane si erano avvicinate al porto di Prevesa, che oggi è una città greca, ma ripeto, all'epoca faceva parte dell'Epiro turco. Vi avevano scoperto altri due cacciatorpedinieri all'interno, li avevano attaccati, affondati e avevano bombardato anche il vicino forte. Queste attività però non piacquero proprio a tutti. Non piacquero ad esempio all'Austria-Ungheria, che aveva le sue basi navali a poca distanza e che insistette, anzi un po' intimò, al governo italiano di impedire eventuali future azioni di questo genere. Tanto che la marina italiana, per evitare qualunque scontro diplomatico, ordinò alle sue navi di operare solo al di sotto del canale d'Otranto, evitando quindi in qualche modo di disturbare gli ungheresi. Ma nei mesi successivi, le navi italiane riuscirono di maniera attiva a bloccare qualunque tipo di commercio dalla parte europea e asiatica dell'impero ottomano verso la Libia. Ovviamente però se si voleva conquistare la Libia bisognava farlo sul campo e per farlo era necessario sbarcare. Come vi dicevo prima, i piani italiani prevedevano due cose molto semplici. Innanzitutto uno sbarco ad occupare le coste e le principali città e poi una volta sbarcati si era nella convinzione che molto rapidamente si sarebbe potuto convincere gli arabi e i berberi locali a legarsi all'Italia, abbandonare i turchi e legarsi agli italiani. Ora, un piano di questo tipo avrebbe necessitato di una preparazione sul posto magari mandando regali, denaro, aiuti verso i capi tribù per essere sicuri che una volta sbarcati gli italiani avrebbero avuto il loro appoggio ma dato che tutto era stato organizzato in maniera molto veloce niente di questo era stata fatta. E così quando i 34.000 italiani quello era il numero di truppe che erano state destinate all'invasione sbarcarono invece di trovarsi un solo nemico cioè quei 4-5.000 soldati turchi che in effetti pensavano di poter facilmente sconfiggere si trovarono a lottare contro un intero Stato. A comandare le truppe italiane era stato chiamato quello che pensate all'epoca era il generale in attività più anziano d'Europa che si chiamava Carlo Caneva come sempre largo ai giovani che era nato pensate nel 1845 e aveva partecipato alla terza guerra di indipendenza con gli austriaci perché era Veneto di origine aveva combattuto con gli austriaci e poi quando il Veneto era passato all'Italia si era ruolato nell'esercito italiano non si era scontrato contro gli italiani aveva combattuto contro i prussiani ma insomma questo ci fa capire anche quanto tempo fosse passato in realtà Caneva era comunque considerato un buon comandante anche se alcuni avevano espresso dubbi sulla sua tendenza ad essere molto poco propenso ad azioni fortemente aggressive e se vogliamo forse questo fu uno dei fattori che salvarono a meno inizialmente la spedizione italiana come vi dicevo la spedizione era stata veramente organizzata in fretta e furia l'unico obiettivo era occupare il prima possibile la Libia perché si temeva che le potenze potessero intervenire addirittura si iniziava a vociferare che addirittura anche l'Austro-Ungheria non solo per quanto riguardava le basi ma anche dal punto di vista militare avesse iniziato ad essere contro l'Italia e questo è vero uno dei principali generali austriaci Corand von Hotsendorf aveva addirittura proposto all'imperatore di sfruttare quel momento per invadere l'Italia nonostante l'Italia fosse teoricamente alleata ma insomma von Hotsendorf era sicuramente un forte oppositore dell'Italia pensate che qualche anno prima aveva addirittura proposto di attaccare l'Italia subito dopo un grande terremoto il terremoto di Messina che aveva appunto portato l'esercito in quella zona per aiutare i soccorsi ma magari a questo dedicheremo in futuro un'altra pillola il 2 di ottobre pochi giorni dopo la dichiarazione di guerra le prime corazzate italiane apparvero davanti al porto di Tripoli e lo iniziarono a bombardare Tripoli era difesa da pochissimi uomini circa 1500 2000 turchi non di più i quali quando si resero conto che i loro cannoni non potevano nulla contro le corazzate italiane decisero come era stato loro ordinato di abbandonare i loro forti abbandonare la città e ritirarsi verso le oasi interne l'obiettivo era molto semplice costringere gli italiani a sbarcare farli arrivare in Libia e poi contrattaccarli partendo da zone che gli italiani non potevano in nessun modo raggiungere in effetti gli italiani per così dire ci cascarono quando si resero conto che non erano ancora che ormai la città era abbandonata per evitare anche razzie da parte della popolazione locale contro i possedimenti italiani i comandanti decisero di far sbarcare i loro marinai i quali ovviamente armati scesero in città e molto rapidamente occuparono i vari fronti i vari forti prendendo il controllo della città stessa già il 5 di ottobre del 1911 questo controllo però era molto flebile tanto che i comandanti per cercare di far credere di avere a disposizione più truppe di quelle che realmente avevano addirittura le facevano spostare in gruppi in più zone della città per far sembrare che gli italiani avessero appunto più soldati a disposizione i turchi però non si fecero ingannare e già il 9 di ottobre iniziarono i loro contrattacchi che furono prima respinti dalle forze dei marinai e poi fortunatamente grazie all'arrivo delle prime navi le più veloci che giunte dalla Sicilia avevano portato le prime truppe di fanteria che sbarcarono occuparono Tripoli stabilirono un perimetro difensivo intorno alla città e permiso ai marinai di reimbarcarsi negli stessi giorni operazioni dello stesso tipo avvenivano in altre città lungo le coste della Tripolitania e della Cirenaica tra il 2 e il 3 di ottobre uno sbarco dello stesso genere fu fatto al porto di Tobruk che era il porto più orientale tra quelli della Libia ed era considerato importantissimo anche per controllare eventuali arrivi di aiuti proprio da quella zona e in questo caso lo sbarco fu abbastanza facile ma man mano che passava il tempo i turchi che ormai avevano capito quello che stavano facendo gli italiani iniziarono ad offrire una resistenza sempre maggiore ad Erna a Oms fino a quando una volta che si trovarono ad occupare l'ultima grande città cioè Bengasi gli italiani dovettero letteralmente strapparla con le unghie con i denti ai turchi che si difesero dopo aver approntato delle difese sulle spiagge e resero l'occupazione italiana molto difficile soprattutto molto costosa dal punto di vista delle vite umane una volta sbarcati gli italiani si resero conto che il loro piano era già fallito perché nonostante avessero occupato le città la sollevazione dei popoli arabi non era avvenuta in realtà inizialmente quando gli arabi berberi avevano visto come i turchi si erano ritirati al di fuori delle città lasciandolo la merced degli italiani avevano borbottato ma quando si erano resi conto di come i turchi avessero poi iniziato questi contrattacchi per cercare di riprendere le città si erano iniziati ad unire alle forze dell'impero ottomano che erano ovviamente aumentati di numero erano stati armati dai turchi e avevano iniziato a rappresentare un grosso problema per gli italiani che anche se si erano trincerati anche se in praticamente quasi tutte le città avevano creato delle strutture difensive che permettevano loro di avere dei vantaggi rimanevano in forte inferiorità numerica una volta che ciò avvenne da Roma iniziarono ad ordinare al generale Caneva di riprendere l'avanzata l'idea era di lanciare degli attacchi in profondità che potessero annientare le forze turche ma Caneva fece capire ben presto che le truppe che aveva a disposizione bastavano a malapena per gestire il territorio la fascia costiera che era stata occupata e non poteva in alcun modo rischiare delle truppe per un attacco che non avrebbe avuto senso anche solo dal punto di vista numerico diciamo che forse questo suo essere appunto come vi dicevo prima così poco aggressivo evitò all'Italia una possibile seconda battaglia di Adua ma questo ovviamente non lo sapremo mai mentre ancora a Roma si discuteva i turchi decisero di passare al contrattacco il 23 di ottobre venne lanciato un poderoso attacco contro le posizioni italiane a Sharashat vicino a Tripoli posizioni difese dai bersaglieri i quali inizialmente cercarono di resistere sulle loro posizioni ma una volta che non riuscirono progressivamente si ritirarono creando un'ultima difesa intorno a un cimitero il cimitero di Rebab ma alla fine vennero costretti ad arrendersi nelle ore successive truppe di fanteria italiane giunte in loco riuscirono con una serie di attacchi feroci a respingere le forze turche riconquistarono il cimitero e pensando ovviamente di potervi trovare in questo modo i prigionieri e poterli liberare quando arrivarono però al cimitero di Rebab appunto vicino a Sharashat si resero conto che tutti i 290 prigionieri italiani erano stati uccisi la maggior parte di loro era stata mutilata qualcuno erano stati tagliati degli arti qualcuno era stato sfregiato la maggior parte erano stati torturati qualcuno era stato addirittura crocifisso i libici i turchi dissero che era stato fatto come vendetta per le violenze che gli italiani avevano fatto sulle donne libiche ma ovviamente gli italiani fecero rapidamente circolare la notizia di quello che era avvenuto i bersaglieri di Sharashat divennero sostanzialmente dei martiri ci furono dei monumenti a loro eretti ce n'è uno ad esempio a Portapia nel monumento al bersagliere c'è anche un'immagine di questa battaglia la trovate a Roma se volete andare a curiosare ebbene iniziò a far circolare questa notizia ma soprattutto decisero di cambiare la loro attitudine verso le popolazioni locali nei tre giorni successivi gli italiani attaccarono una vicina oasi l'oasi di Mascia e inizialmente catturarono e passarono per le armi tutti gli uomini trovati in possesso di armi ma dopo di che si lasciarono andare a tre giorni di totali violenze che alla fine videro la morte di 4.000 libici tra uomini donne e addirittura bambini la notizia di queste violenze ovviamente iniziò a circolare perché insieme alle truppe italiane erano sbarcati anche dei giornalisti giornalisti italiani che si guardarono bene da far circolare la notizia anzi misero risalto quello che era venuto a Sarasciato ovviamente per mostrare quanto da loro punto di vista i turchi fossero animali ma gli altri corrispondenti degli altri stati invece fecero circolare anche la notizia di quello che era venuto a Mascia e questo ovviamente non fece che peggiorare l'immagine italiana agli occhi di tutta Europa insomma alla fine di ottobre la situazione era in completo stallo le coste erano occupate i mari erano occupati ma la Turchia sembrava non avere nessuna intenzione di arrendersi in realtà i turchi avevano lanciato qualche possibile idea di accordo diplomatico avevano ad esempio proposto che gli italiani ottenessero il protettorato sulla Libia quindi un controllo diciamo politico ed economico ma che la proprietà del territorio della Libia stessa rimanesse all'impero ottomano stesso una situazione che in effetti era già stata utilizzata altrove come ad esempio a Cipro che era sotto il controllo inglese della Gran Bretagna ma formalmente continuava a essere parte dell'impero ottomano la cosa però ovviamente non convinceva gli italiani che volevano una vittoria a tutti i costi e così il 5 novembre ponendo fine praticamente a qualunque possibilità di accordo diplomatico l'Italia dichiarò unilateralmente l'annessione della Libia ma non solo della fascia costiera di tutta la Libia anche se in realtà in quel momento non la controllava la cosa ebbe effetti duplici sull'impero ottomano perché da una parte molti soprattutto tra i giovani ufficiali decisero di partecipare alla difesa della Libia e viaggiarono proprio verso la Libia o lo stavano già facendo per organizzare i difensori tra questi ad esempio un giovanissimo Mustafa Kemal il futuro Ataturk dall'altra parte preoccupò molto la sublime porta che certo non voleva perdere una guerra in questo modo ma aveva bisogno ovviamente di sbocchi diplomatici per poter fermare l'Italia ma dall'altra parte temeva che questa instabilità questa sua debolezza potesse avere un effetto sui Balcani potesse spingere gli stati balcanici a tornare a muoverle guerra la cosa ovviamente era una preoccupazione assolutamente legittima e sarà proprio questo a cambiare il proseguo della guerra ma come vi dicevo ne parleremo nella prossima puntata in cui finiremo il racconto di questa guerra tra l'Italia e la Turchia ma come dicevo all'inizio non finiremo il racconto della conquista italiana della Libia che invece continuerà ancora per tanti tanti anni io mi fermo qua spero che questa puntata sia stata comprensibile che sia riuscito a raccontarvi vari aspetti di questa guerra a cominciare da quelli diplomatici che secondo me sono sempre quelli più interessanti al di là delle conquiste in sé è bello vedere anche un po' come si muovesse la diplomazia all'epoca perché credo che sia veramente molto interessante vedere come funzionasse questo concerto di potenze se come volete volete riascoltare questa o altre puntate di questa playlist tra cui la puntata dedicata alle colonie in oriente trovato ovviamente in descrizione della playlist le trovate anche sul nostro podcast e per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao ciao